Dunque Trieste ce l'ha fatta, nel 2020 sarà capitale europea della scienza. L'annuncio è stato dato nel pomeriggio al centro di fisica dal professor Stefano Fantoni. Quello che ci ha creduto prima di tutti è che sotto molti aspetti si era speso perché la città ottenesse questo prestigioso riconoscimento. Poteva sembrare impossibile che una città come la nostra, la cui vocazione scientifica si manifesta quotidianamente grazie al lavoro delle numerose istituzioni che vi hanno sede, potesse non aggiudicarsi tale assegnazione. Ad esempio il fatto che pochi anni fa fosse stata scelta un'altra città italiana, Torino, avrebbe potuto rivelarsi controproducente. Invece la candidatura triestina, pianificata con il contributo di Pierpaolo Ferrante, ha puntato molto sul suo essere una candidatura transfrontaliera e sulla capacità da parte di Trieste di attrarre studiosi e visitatori da un'area molto vasta che nella città e nelle sue istituzioni scientifiche storicamente si riconosce. Negli ultimi giorni, poi, la concorrenza congiunta delle due città olandesi, magari per una comprensibile scaramanzia, era stata in qualche modo enfatizzata e la vittoria non sembrava poi così scontata. Ora tocca il progetto. Tutte le attività inerenti alla capitale europea della scienza dureranno circa una settimana ed avranno luogo sostanzialmente in Porto Vecchio, in una zona nei pressi del magazzino 26, della centrale idrodinamica e della sottostazione. In ogni caso, non saranno pochi i momenti e le iniziative che accompagneranno gli appuntamenti più importanti. Sarà dunque un ulteriore momento in cui i triestini e i visitatori potranno riappropriarsi del Porto Vecchio, quasi una rivincita rispetto all'Expo.